Concluse allora il suo discorso con uno squillante, viva il Parlamento, squillante, abbiamo vissuto in questi due anni l'epoca gloriosa del che pensi mi, che pensi mi, promesse che marciano sulla Salerno-Reggio Calabria, squillante, chieda il Nobel per la pace. Non c'è abbastanza lavoro in questo paese, ma chieda il Nobel per la pace. Governo del fare, ma del fare in che cosa? Abbiamo pazienza, Presidente. Cosa in che cosa è migliorata l'Italia? Ditemene uno. Il fisco, la burocrazia, il lavoro. Cosa in che cosa? E l'opposizione, i magistrati, i comunisti, i rom e la Corte Costituzionale. Lei arrivò, Presidente, lei arrivò con un sogno, lanciò un sogno, poi il sogno è diventato una favola. E la favola si è dispersa in mille bolle di sapone. Sarebbero e sono mille, diecimila volte perdonate. Alla Joni. Adol. ... ..